La votazione online dei 5 Stelle risponderemo con una tombola di raccolta fondi per scegliere tirando a sorte, credo che no, le votazioni online dei 5 Stelle hanno dato risultati francamente inquietanti per il paese. Il centrodestra ha una rosa di nomi che ci rende molto orgogliosi perché credo fossero anni in questa regione che tante personalità di grande qualità e di grande spessore non offrivano proprio contributo al nostro progetto politico, quindi oggi abbiamo un'ampia possibilità di scelta, sceglieremo il migliore, costruiremo intorno al migliore facendo una squadra che sappia condividere con noi il modello di sviluppo e la visione di futuro che vogliamo per questa regione e per questa città. Un settimana sarà qua Giorgia Meloni, settimana scorsa abbiamo avuto un ampio confronto con Rixi, Salvini, Giorgetti, Vertici della Rega, la settimana ancora dopo credo che tutte le valutazioni saranno mature per arrivare a una scelta che sia ampiamente condivisa. Per me tutti i nomi che avete scritto hanno qualità e profili tali da poter essere un nostro candidato alla guida di questa città. Occorre scegliere colui che raccoglierà maggiore consenso e maggiore fiducia all'interno della nostra maggioranza che correrà certamente unita, compatta e determinata via.